Giuseppe Germani Devo dire anche con due cose fondamentali, uno con gli altri due candidati con tanta onestà e tanta tranquillità in questa campagna elettorale, senza colpi bassi, con persone veramente all'altezza della situazione. Quindi abbiamo finalmente tolto quel macigno che c'era dell'ultima primaria. Quindi abbiamo fatto una battaglia vera, serena, tranquilla, fra persone intelligenti. E quindi questo ci farà ben sperare, credo, per il futuro. Grazie anche alle persone che in questa campagna elettorale mi hanno dato una mano. Non li cito tutti perché sicuramente me ne dimenticherai qualcuno, ma voglio citare una persona che in questi giorni mi è stata fortemente vicino, e è Valentino Maggi. Credo che se lo merita per il lavoro che insieme a me ha fatto in questa ultima settimana. Grazie.